Percorsi formativi in Outdoor è il nuovo progetto di Confartigianato che vede protagonisti gli imprenditori e li accompagna a conoscere imprese che hanno interpretato il concetto di innovazione, applicandolo a processi produttivi, prodotti, organizzazione del lavoro. L'obiettivo è aiutare i nostri imprenditori ad acquisire nuove competenze visitando eccellenze del nostro territorio che stanno portando innovazione, stanno portando occupazione e quindi un incontro che permetta fuori dalle proprie aziende, dai locali tradizionali della formazione di arricchire le proprie competenze. Obiettivi del nuovo percorso formativo presentare delle best practices e mettere in contatto gli imprenditori attraverso il confronto diretto, favorendo la nascita di rapporti personali e professionali, accrescendo il trasferimento di competenze attraverso il confronto diretto con chi ha già fatto esperienza di un diverso modo di gestire la propria organizzazione aziendale. Lezioni tenute dai docenti dell'Università Politecnica delle Marche dove si affronteranno temi attuali come il rischio di attacchi informatici alle banche dati. Verranno affrontati in particolare i temi del marketing, della sicurezza informatica e dell'innovazione digitale. Bisogna rivolgersi ai professionisti che possono studiare azienda per azienda quelle che sono le necessità e quelli che sono i rischi possibili che non sono uguali per tutte le aziende, però per mettere in sicurezza quelli che possono essere gli attacchi che possono venire alla banca dati dell'azienda. Le persone si rendono conto sempre di più, ormai tutti si stanno rendendo conto di questo rischio e per questo a noi c'è arrivata proprio come confartigianato la richiesta di istituire un percorso di formazione e di informazione da questo punto di vista perché c'è bisogno appunto di sapere cosa si può fare.